Si ha un discorso relativo alla qualità anche legata anche alla qualità dell'era. Faranno molto grazie all'intervento pianificato da Aset nel comune di Mondolfo. Ben 4.000 utenti saranno collegati dal collettore che utilizzerà il depuratore di Marotta per le acque reflui collegando tre agglomerati che fino ad oggi operavano in dispersione o utilizzando canali che poi portavano al fiume Cesano. Un notevole passo avanti rispetto al passato, come promesso anche in campagna elettorale dal sindaco Barbieri che assieme alla sua giunta ha sempre messo in primo piano gli aspetti ambientali e di sviluppo del settore turistico. Abbiamo subito collaborato assieme ad Aset e gli altri enti per migliorare la rete fognaria e in effetti arriviamo al 2019 con dei collegamenti importanti. C'erano dei tratti indipendenti che non erano collegati al depuratore e che adesso con i lavori che sono stati realizzati e quelli in corso di realizzazione verranno collegati. Parliamo del quartiere di Ponterio, di via Beato Angelico tra Centocroci e Ponterio, via Sterpettine grazie all'intervento che realizzerà e sta realizzando autostrade e poi arriviamo fino all'ampliamento del nuovo depuratore di Marotta. Ci sono ancora altri tratti che devono avere risposta e quindi ci concentreremo nei prossimi anni su questi. Depuratore di Marotta che riceverà un aggiornamento all'impiantistica con lavori dal costo di 1,4 milioni di euro con processi altamente tecnologici di filtraggio e depurazione delle acque senza aumentare però la cubatura delle strutture esistenti ma potenziando soltanto la capacità operativa della struttura. L'intervento che sommato alle precedenti operazioni porta la montare degli investimenti di Aset nel comune di Mondolfo a ben 2 milioni e 500 mila euro. Questo probabilmente porterà dei benefici importanti sia per il delta del fiume, quindi come valore delle acque ma anche secondo me per tutto quello che ha a che fare con la salute del fiume stesso perché si toglie una carica batterica importante che a questo punto non ha più ragione d'essere. Ma questo intervento non è conclusivo del rapporto tra Aset e il territorio comunale perché è stato messo nero su bianco un piano triennale di investimenti di manutenzione alla rete idrica per non montare anno intorno ai 200 mila euro.